La sconfitta dell'andata contro il Biceglie, la fiducia che non manca in vista della gara di ritorno, l'ottimismo che c'è a poco più di una settimana dallo start del campionato di eccellenza. Fabio Di Domenico, tecnico del Corato, racconta le sue sensazioni, partendo naturalmente dal 2-0 incassato al Ventura contro il Biceglie in gara 1 del primo turno di Coppa Italia di Lettanti. Aveva preparato una partita il timoniere di Nero Verdi, dopo 5 minuti però. In partita subito compromessa, dopo 5 minuti con rigore di espulsione, avevamo preparato per fare una partita a viso aperto con il Biceglie. Abbiamo tenuto a fare i complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto botta fino al novantesimo, non era semplice con questo campo e con queste condizioni decisamente calde dal punto di vista atmosferico. Quindi faccio i complimenti ai ragazzi per la gara, il risultato è ancora aperto, ce la giocheremo a viso aperto domenica. Conta più il campionato della Coppa Italia di Lettanti quest'anno per il Corato, che a differenza delle scorse stagioni non parte per tentare la scalata alla Serie D. I Nero Verdi tuttavia proveranno a compiere l'impresa nel match casalingo di ritorno contro il Biceglie in programma domenica a Ruvo a partire dalle ore 15.30. L'esordio in eccellenza invece è fissato per il 18 settembre a Biceglie ma con l'Unione Calcio. Di domenico ha buone sensazioni anche se attende qualche rinforzo dal mercato dei giovani per completare il pacchetto Juniores. Abbiamo raggiunto una buona condizione fisica anche perché lavoriamo da più di un mese per cui ci manca qualche elemento, siamo pronti dal punto di vista dell'organico ma ci manca qualche under forse però siamo nelle buone condizioni per approcciare anche il campionato. Grazie. Grazie. Grazie.